Le formulazioni Dr. Organic sono tra le più innovative sul mercato. Questo grazie all'impiego di materie prime organiche e naturali che danno origine a dei blends di comprovata efficacia per ogni singola referenza. Tutto questo senza l'utilizzo di sostanze quali per esempio i parabeni, i petrolati, il sodio e l'aurosolfato, i coloranti artificiali, le profugazioni artificiali e gli oli minerali. La linea Dr. Organic Pappa Reale offre una gamma di 14 referenze. Oggi parliamo nello specifico della crema per mani e unghie alla pappa reale. È una crema ricca ma adatta all'uso quotidiano. Contenente pappa reale biologica, algo white, aloe vera, olio di mandorla dolce, trifoglio rosso, erica, propoli, cera d'api, miele, vitamina C, vitamina E, più oli essenziali di cedro, limone, geragno, paciuli, pettigren e sandalo. Un trattamento intenso per proteggere e riparare mani screpolate e rinforzare allo stesso tempo le unghie dalla rottura e dallo sfaldamento. La crema, grazie all'azione clinicamente testata del Nosodu Masco Fillum, rara alga mediterranea, è in grado di contrastare le macchie dell'età, rallentando l'insorgere di iperpigmentazione, macchie di invecchiamento e danni solari. Vi ringrazio per l'attenzione. Optima Naturals rimane a vostra disposizione per la mia esigenza di approfondimento. Buon minuto!